Sono con Federico Vartuca, concorrente gerovese che rappresenta la Liguria Mystery Universe. Allora, Federico, le tue aspettative dove vuoi arrivare? Cosa vuoi fare da grande? Mi auguro di vincere questo concorso, anche perché spero di meritarmelo. E niente, voglio fare il ballerino e spero di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Quanto tempo è che fai danza? Quest'anno è il tredicesimo anno. Insomma, un bel po' direi, sei quasi un professionista. Che tipo di danza fai? Studio danza classica, moderna e pop. Però attenzione, in passerella bisogna sfilare, non danzare, hai già qualche infarinatura oppure improvvisi? Improvviso. La cosa migliore, io ti auguro di avere successo in bocca al lupo come ho fatto con gli altri. Grazie.